C'è stata una scossa di terremoto, ripeto, anche oggi però diversa, alle ore 4 e 34. Pensate che si è avvertita distintamente anche in Italia. Le città quei volte sarebbero Amatrice, sarebbero la provincia di Liedi, quindi Liedi. Parliamo però anche della regione Emilia. Insomma, una situazione terribile per un terremoto che sta provocando paura, preoccupazione, ansia e terrore. Ovviamente questa situazione è una situazione negativa, una situazione che non è bella da fotografare, ma in questo video mi voglio occupare, mi voglio concentrare nel rendere partecipi tutti voi di questo che è successo. Non bisogna essere pessimisti, ma probabilmente ci sono stati dei danni a Norcia, a Liedi e in altre località. Adesso bisognerà vedere, quantificare a livello economico questi eventuali danni che probabilmente ci saranno stati e rendersi conto della situazione in questione. Io a Guida Roma, come negli altri due video, ho sentito queste scosse di terremoto, piuttosto pesanti, piuttosto forti, a Guida Roma, viene il riverbero, però ci sono stati, ci sono sentiti insomma. Ebbene, io ho sentito queste scosse di terremoto, mi sono preoccupato moltissimo, mi sono per così dire sentito, impaurito. Adesso la situazione sembra essersi un po' accarmata, ma dovete sapere che ci sono le famose scosse di terremoto che fuggono da assestamento, quindi quelle ci sono che non possono essere evitate. Detto ciò, grazie a voi tutti per l'ascolto, per la visione, e vi lo termino qua. Se abitati in globo, quindi a Roma, a Ieti, ad Amatrice, per l'appunto nella provincia di Ieti, in Emilia, e in altri cittadini, se non siete copiati da questo terremoto, scrivetelo attraverso un commento. Iscrivetevi, un saluto e teniamolo. Iscrivetevi, un saluto e teniamolo.